Ciao! Ciao! E chi c'ha in braccio? Il mio bambolotto! Il mio principe! Sì, sei stato deprimizzato! Vi amo! Clizia in corbaia ha dato alla luce il suo secondo figlio, il primo frutto dell'amore con Paolo Ciavarro. La modella, a 41 anni, ha partorito il piccolo Gabriele in una clinica romana. La coppia ha annunciato la lieta novella sul social, pubblicando uno scatto in cui appaiono insieme al neonato, hanno scritto entrambi su Instagram. Benvenuto al mondo, Gabriele Ciavarro! Il bimbo è nato lo scorso sabato 19 febbraio. Clizia ha poi rivelato di aver avuto un parto assolutamente indolore, anzi di aver messo al mondo Gabriele addirittura con il sorriso in sala parto. Ringraziando lo staff che l'ha accompagnata durante i momenti più delicati ha fatto sapere. Un super staff ha reso il mio parto il giorno più bello della mia vita. Si può partorire con il sorriso!